Salve, salve, eccoci qua a questo momento che come vedete dal titolo è una presentazione e qualche consiglio per lo studio da parte di chi si sta preparando all'ormai famoso famigerato ripam 2736 posti ovviamente sono consigli sia per chi segue i corsi che ho preparato che abbiamo preparato sia per chi fa una preparazione individuale e non ha preso quei corsi diciamo i suggerimenti valgono ovviamente per tutti quanti e vediamo allora di partire da un punto che è quello della comunicazione qualcuno ha detto all'improvviso in realtà ormai un anno e mezzo che abbiamo il bando aperto pur essendo riaperti i termini le voci davano come imminente la preparazione della prova quindi dal 30 settembre all'8 ottobre chi si è iscritto riceverà la comunicazione della sede della città dove dovrà effettuare la prova scritta che verte su varie materie e adesso andiamo a vedere velocemente il bando questa è la parte del provvedimento che ha modificato aggiornato il bando intanto io vi invito a formulare eventuali richieste di chiarimento nella chat online che sto guardando in diretta sia per chi è in diretta su facebook sia per chi è in diretta su facebook e il bando che prevede con la modifica la fase scritta nella risoluzione di 40 quesiti a risposta multipla in realtà sono due tipologie di quesiti 32 quesiti sulle materie d'esame diritto pubblico diritto pubblico che è un concetto molto molto ampio costituzionale comunitario amministrativo compreso attenzione particolare riferimento al codice degli appalti pubblico impiego responsabilità dei dipendenti pubblici compresa quella penale più diritto civile ma limitatamente alla responsabilità contrattuale ed extra contrattuale che non è poca cosa ma diciamo insomma rispetto al diritto civile è sicuramente una parte limitata organizzazione e gestione delle pia che è in parte il pubblico impiego ma in un'ottica organizzativa quindi management e riorganizzazione temi di questo genere contabilità di stato quindi i principi fondamentali della contabilità pubblica e elementi di economia pubblica che è l'altro nome di scienza delle finanze quindi la trovate in queste due edizioni è ovvio che su 32 quesiti mi aspetto una prevalenza di quelle di diritto pubblico diciamo almeno una metà che ruotino intorno al diritto pubblico una ventina e 12 sulle altre materie ovviamente tutto ciò che vi sto raccontando è meria opinione personale quindi non la prendete come oreo colato è sensazione vedendo come si sono svolte le prove concorsuali negli anni precedenti e come è formulato il nuovo bando non solo abbiamo anche l'indicazione ovviamente dei punteggi più 0 75 per la risposta esatta meno 0 25 per la risposta sbagliata chi non risponde zero punti quindi sono valide tutte e tre le opzioni io chi mi segue ormai lo sa lo ripeto l'ennesima volta io sono per rispondere a tutti se vediamo i numeri degli iscritti un attimo ritorniamo indietro non ricordo eccolo qui 173.380 candidati per 2.700 posti quindi si deve andare a cercare di vincere non classificarsi 120 millesimo e quindi risultare poi escluso se si vuole andare a vincere mia opinione personale si risponde a tutte le domande e si indovinano tutte le domande punto poi quella che non indovino mi dà meno 0,25 che statisticamente non c'è dubbio mi porta più vantaggi perché perché se io con il metodo che nei miei corsi spiego di arrivare comunque facilmente a individuare le due risposte più probabili me la gioco al 50 per cento di possibilità cosa vuol dire che se non rispondo a due risposte dubbie prendo zero se rispondo a due risposte dubbie a caso quindi col 50 per cento di probabilità statistica io prendo più 0,75 e meno 0,25 quindi più 0,50 quindi ogni due risposte dubbie se rispondo comunque prendo più 0,50 rispetto a quello che non risponde questa è mera statistica poi alla statistica si innesca anche un po di fortuna e sfortuna ma quella non può essere oggetto di valutazione quindi prima questione è questa come approcciarsi questo lo dovete decidere prima di entrare non certo in quei pochi minuti che avete disposizione per ragionare la tensione lo stress decidete se rispondete a tutto o non rispondete a tutto quanto andiamo avanti perché poi ci sono gli otto quesiti famosi gli otto quesiti situazionali cosa sono i situazionali lo vedremo in modo approfondito anzi vi farò degli esempi durante questa presentazione di test situazionali che prevedono alternative dove non c'è perché non è la logica dei test situazionali non c'è una risposta giusta una sbagliata ci sono risposte più efficaci e meno efficaci quindi se io individuo la risposta più efficace prendo 0 75 se risposto se individuo la risposta neutra cioè non è la migliore ma non crea nemmeno danni più 0 375 che potrebbero essere due delle opzioni quindi se il quesito è a quattro opzioni due sono neutre e se rispondo la meno efficace 0 è evidente ora lo dico per chi è un po distratto è evidente che questa questa seconda parte di quesiti dovete rispondere per forza perché male che vada prendete 0 quindi sarebbe assurdo non rispondere ovviamente ve la giocate fra lo 0 375 e più 0 75 bene questo è un primo aspetto diciamo descrittivo quindi conto alla rovescia intensificazione della preparazione per chi fosse interessato io vi ho preparato diciamo un link dove trovate gli aggiornamenti il materiale intanto rispondo rimarrà visibile questo video certo rimarrà visibile ho capito di no però anch'io ho sto dubbio logica inglese informatica lo spieghiamo fra pochissimo scusatemi vi ho messo un link eccolo qui adesso vi metto il link per poter accedere a questa pagina di approfondimento per chi vuole intensificare allora partiamo dal corso il corso che ho predisposto ormai un anno e mezzo fa che poi ho aggiornato è stato ampliamente aggiornato alla luce del nuovo bando vediamo che cosa contiene intanto lo trovate sul sito con l'addizione code 050 vi metto anche qui il link diretto per chi fosse interessato ancora c'è tempo poco in 12 giorni ovviamente dovete fare un tour de force di studio però se vi mettete intensamente a fare due lezioni al giorno ancora partendo da zero è possibile fare il corso integrale o quantomeno la maggior parte di lezioni possibile quindi vi invito a non sottovalutare il corso integrale e non a concentrarvi solo sui quiz che è un miraggio quello di dire faccio batterie di quiz a fare magari quelle formez degli anni scorsi non si impara dalle batterie di quiz allora vediamo che cosa contiene il corso cosa c'è già e cosa manca allora le lezioni del corso sono queste l'allargo perché lo vediate meglio allora lezione 1 diritto costituzionale completa quindi tutti gli elementi essenziali per avete visto il diritto pubblico comprende in primo luogo il diritto costituzionale diritto amministrativo nelle sue due componenti atti e provvedimenti e legge 241 del 90 codice degli appalti l'abbiamo visto con particolare riferimento quindi due lezioni del codice degli appalti in particolare gli affidamenti sottosogli alle procedure telematiche che sono quelle più ricorrenti pubblico impiego ci sono tre lezioni la lezione 6 più la lezione 7 che è stata sdoppiata con la responsabilità e i reati contro la pubblica amministrazione in due lezioni di approfondimento proprio perché avete visto la responsabilità è richiamata in tutte e due le componenti non solo diritto civile e responsabilità contrattuale ed extra contrattuale che è una materia a sé la lezione 8 dopodiché abbiamo la parte organizzativa quindi come abbiamo detto le nozioni sull'organizzazione la gestione delle pa in particolare vedete la contrattazione collettiva il la lezione sulla contabilità di stato che anche questa è una materia a sé stante e poi abbiamo la lezione 11 la lezione 11 che è quella dedicata alla esercitazione io ho realizzato 150 quiz commentati l'importante vi invito a non fare quiz diciamo numerosi senza capire il perché la risposta giusta e sbagliata quindi sono oltre tre ore tre ore un quarto di lezione per la preparazione chi volesse la può acquisire anche autonomamente poi vi dico qual è il codice proprio su tutte le materie della prova concorsuale compresa la lezione 12 ora scusate la lezione 11 mi sembra era sulla preselettiva comunque sempre sulle materie d'esame la lezione 12 è quella proprio di approfondimento specifica per il ripam dopodiché abbiamo due lezioni fondamentali per le problematiche organizzative e gestionali e il comportamento organizzativo quella parole un po strane quelle nozioni un po strane che vi serviranno sia per i situazioni situazionali sia per i quiz della prima parte perché sono argomenti giuridici e non giuridici il la 13.1 è giuridica ed è già pronta già registrata quindi la trovate già fruibile la 13.2 la registrerò di qui a brevissimo quindi entro un paio di giorni tre al massimo i primi della settimana prossima sarà registrata anche l'ultimissima lezione di questo corso io come al solito diciamo mi riservo di registrare alla fine le lezioni anche per capire quali sono le indicazioni gli input che derivano per esempio dai comunicati insomma qualche indicazione l'ho ottenuta anche da questi comunicati che sono arrivati di convocazione quindi preparatevi perché questa sarà importantissima sia per la parte giuridica ma soprattutto per l'approccio ai situazionali anche lì non vanno fatti in batteria in numerosi ma vanno fatti cercando di capire di che cosa si tratta dopodiché sono state aggiunte nel corso delle settimane proprio perché il bando è cambiato e abbiamo visto un certo orientamento verso certe materie è stata aggiunta una lezione 14 diritto dell'unione europea che approfondisce il diritto comunitario scienza delle finanze che alla lezione 15 proprio sull'economia pubblica vi dicevo che è il sinonimo di quella che viene denominata scienza delle finanze poi la società ha deciso sul mio consiglio di aggiungere altre lezioni due lezioni di diritto costituzionale una sui profili regionali una sui profili comunali che comunque vi è utile per ampliare il quadro una lezione aggiuntiva di contabilità pubblica con particolare riferimento al mondo delle regioni due lezioni aggiuntive di pubblico impiego sempre regionale e comunale una lezione di economia pubblica e analisi delle politiche pubbliche che è complementare a scienze delle finanze quindi amplia l'analisi micro e macroeconomica che si fa con scienza delle finanze ma allo stesso tempo è un'analisi della organizzazione pubblica quindi di quella parte del diciamo delle materie che fa riferimento alle problematiche organizzative pubbliche la trovate in questa lezione extra in più abbiamo una lezione di informatica e di inglese però attenzione perché vedremo che in realtà informatica ed inglese ci saranno ci saranno come quesiti però diciamo ovviamente meno rilevanti anche se è tutto importante rispetto alla preparazione io do priorità alle domande quindi giampiero mi chiede è possibile acquistare solo alcune lezioni e non l'intero pochetto e certamente di ognuna di queste lezioni vedete dove sono già indicati i codici cod 006 underscore 06 la trovate nel motore di ricerca quindi andate qui mettete cerca e scrivete cod 006 underscore 06 fate trova e ora ho messo uno zero in più eccolo qua e la trovate eccola qua quindi potete acquisirla direttamente così come potete fare cod 050 senza altre aggiunte e trovate tutte le lezioni singole quindi andando a pagina 2 ad esempio vedete ci sono la lezione 2 la lezione 3 la lezione 4 acquistabili singolarmente quindi assolutamente possibile l'acquisizione singola del corso cosa c'è abbiamo detto nel corso ritengo fondamentale questa chi sta seguendo questa diretta faccia lo sforzo economico di acquistare almeno questa lezione dei 150 quiz perché la simulazione si chiama cod 783 quindi la trovate per chi la vuole prendere singolarmente altrimenti chi ha l'intero corso ce l'ha già come lezione numero 12 perché sono i 150 quiz commentati già registrata tre ore un quarto di quiz dove vi potete esercitare quindi voi lanciate il video poi lo dirò lo vedrete che lo dico già all'inizio mettete pausa quando vi faccio leggere la domanda provate a rispondere e poi rimettete start per seguire il mio commento quindi vi durerà più di tre ore un quarto diciamo un buon cinque ore o quattro ore e mezzo vi dura quindi prendetevi un lasso di tempo vedetela in più volte questa è probabilmente quella da diciamo focalizzare su cui focalizzare l'attenzione secondo lei organizzazione gestione della pia non potrebbe riguardare la riforma brunetta le misure di valutazione della performance lo vedremo adesso vi farò vedere quello che è la mia interpretazione di questa dizione che è una dizione diciamo che non si trova in ambito giuridico però è a mio avviso abbastanza chiara adesso proverò a spiegarvela in questa andando avanti in questo commento allora vi dicevo per chi fosse interessato vi metto il link diretto così potete guardarla eccolo qua nei commenti della chat allora andiamo avanti un'altra lezione che vi dicevo fondamentale e che non ho ad oggi in questo momento in questo registrando 18 settembre non ho registrato ma lo farò di qui a brevissimo fra domani domani l'altro perché sto completando alcuni tasselli e sono le problematiche organizzative e gestionali e il comportamento organizzativo per questa vi do in anteprima un po di contenuti di quello che ci sarà intanto la domanda su se c'è la logica poi rispondo dopo ve lo anticipo no non ci sono domande di logica a mio avviso in maniera abbastanza chiara però lo vedremo dopo in maniera più puntuale allora cosa contiene rapidamente il code 784 vi ho estrapolato alcuni capitoli sarà molto lunga sarà una lezione molto lunga anche come slide circa 300 slide perché perché analizza cosa si intende per comportamento organizzativo quindi la definizione l'analisi sistema sistematica e scientifica del comportamento degli individui nei diversi contesti organizzati e noi ovviamente faremo riferimento in particolare ai contesti della pubblica amministrazione come si sviluppa questo comportamento organizzativo quindi l'ambiente e l'individuo che generano il comportamento e che hanno delle conseguenze che si ripercuotono qui siamo in un ambito non giuridico ma di psicologia del lavoro di scienza dell'organizzazione diciamo spiegheremo anche come approcciarsi che è una metodologia diversa da quella che si usa per lo studio delle altre materie vedete il sistema delle valori insieme delle credenze insomma ne parleremo per arrivare poi al sistema di valutazione cioè al sistema di valutazione della performance che è uno sbocco organizzativo del comportamento organizzativo quindi una delle modalità attraverso le quali si analizza il comportamento organizzativo è il sistema di valutazione della performance ma non è l'unico è uno di questi adesso vi invito a provare a rispondere a questo test situazionale perché durante questa lezione vi proporrò oltre che nelle lezioni specifiche che vedremo dei test situazionali quindi ma questo l'abbiamo nel corso code 50 certo chi ha il corso code 50 ha questa lezione quindi non deve assolutamente acquistarla a parte se la troverà di qui a pochissimi giorni allora vi chiedo nella chat di rispondere a questo caso alcuni tuoi colleghi non perdono l'occasione per svalutare il tuo lavoro durante le riunioni con il vostro capo ti capita e lo riconosci che alle volte fai degli errori ma non condividi che questo venga sbandierato davanti al responsabile come ti comporti rispondi davanti al capo che come sbagli tu hanno sbagliato anche gli altri in alcune circostanze affronti la questione con i colleghi chiedendo di non farlo più perché ti mette in imbarazzo ti sfoghi con altri colleghi e chiedi loro consiglio chiedi ai tuoi colleghi perché si comportino così e che questo atteggiamento non aiuta nessuno allora questa sarà un quiz molto probabilmente simile a quelli che vi capiteranno gli otto quiz situazionali dove abbiamo una risposta non giusta ma la preferibile il comportamento organizzativo la soluzione organizzativa preferibile in un'ottica di cosiddetta soft skills la banalizzo in realtà diciamo per capirci e due risposte neutre cioè non vanno completamente male ma insomma non sono l'ideale e una risposta che è non si può proprio fare questa cosa quindi vediamo se individuate qual è la risposta corretta e poi soprattutto la lezione servirà a capire perché perché voi non troverete mai la diciamo questo 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 caso i casi sono veramente molto variegati però se iniziate a ragionare in questa logica sicuramente trovate la soluzione giusto vedo che insomma vi ho messo una versione molto molto semplice per cui andiamo a vedere qual è la risposta corretta che è la d e qual è la risposta fra virgolette sbagliata insomma quella che vi darebbe 0 75 la d quella che non vi sarebbe punti è la perché perché notiamo la d che cosa ha di particolare chiedi ai tuoi colleghi perché si comportino così cioè non dai per scontato che il loro comportamento è sbagliato attenti a questo aspetto non dai per scontato che questo comportamento è sbagliato quello dei tuoi colleghi magari è colpa tua e quindi ti metti in discussione socializzi team working team building chiamiamo una delle skills alcune delle skills sono queste comportamento positivo proattivo e che questo atteggiamento non aiuta nessuno attenzione al concetto cioè tu non hai preoccupazione che questo svalutazione del lavoro abbia un effetto su di te tu sei una pedina del mosaico il problema è che si riflette a danno dell'organizzazione non è una visione egoistica è una visione da gruppo ok se i difensori della squadra prendono il giro il centro avanti perché non fa gol il problema non è del centro avanti non è solo del centro avanti è che la squadra non vince allora si deve capire come mai mi prendono in giro perché magari effettivamente sono un po sovrappeso e poi trovare insieme la soluzione è ovvio che le altre soprattutto la rispondi davanti al capo cioè generi criticità e come sbagli tu hanno sbagliato anche gli altri che non è un problem solving cioè in questo modo non hai risolto il problema ma lo hai acuito quindi vedremo in modo molto molto più dettagliato come si affrontano queste questi concetti nell'ottica delle 10 soft skills soft skills che ormai da anni caratterizzano l'analisi del contesto organizzativo privato prima e poi anche pubblico riviste recentissimamente quelle quelle che vedete a sinistra sono le soft skills più diciamo in voga insomma non esiste una norma sulle soft skills però sono quelle a cui faremo riferimento come detto organizzandoci sui test situazionali ve ne ripropongo un altro per divertirci il mese scorso il tuo capo ti ha nominato responsabile di un progetto da una settimana hai problemi di salute non riesci a performare al 100 per cento la scadenza è fra cinque giorni e ti manca ancora una buona parte per arrivare all'obiettivo cosa fai chiaro il concetto tu sei nella situazione in cui hai problemi di salute non riesci a lavorare al 100 per cento fra cinque giorni sei sicuro che non arriverai all'obiettivo a chiami il tuo capo e gli dici di non riuscire a completare il lavoro per ragioni di salute b continui a lavorare nonostante tutto se poi ci saranno degli errori potrai giustificarli con il tuo stato cagionevole hai il certificato medico e quindi sei a posto chiedi a un collega al favore di aiutarti senza che però lo dica al capo che potrebbe arrabbiarsi metti al corrente di quanto accaduto il capo e propone una soluzione che non danneggi il risultato finale del progetto provate a rispondermi intanto qualcuno mi fa la domanda ma dal 30 all'otto si svolgerà la prova o verrà data comunicazione della data no no ciascuno parteciperà in un solo giorno è quindi dal 30 all'otto ci sarà la prova in un solo giorno per ciascuno che riceverà la comunicazione immagino in ordine di cognome di iniziale del cognome allora vediamo qual è la risposta giusta a questa prova vediamo un po vi do qualche secondo la stessa cosa la farò durante ovviamente le lezioni questa è una simulazione di una delle due lezioni sulle soft skills che ho realizzato e che appunto prevedono casi di questo genere allora anche in questo caso la risposta giusta è la di perché perché socializzo il capo mi ha dato dei compiti non riesco a farli devo informarlo quindi non posso violare la leadership non posso con la c chiedere al collega al favore di aiutarmi e quindi far fare ad altri quello che è stato detto a me ovviamente la a è sbagliata la a non risolve il problema la a rinuncia al provare solving quindi chiami il capo gli dici di non riuscire la b guardate è la tipica risposta da dipendente nel senso io lavoro poi se succede qualcosa ho la pezza d'appoggio ho la giustificazione del non raggiungimento del risultato è assolutamente sbagliata assolutamente sbagliata quindi dopo aver fatto diciamo lo studio delle evoluzioni dottridarie e che portano all'analisi dei comportamenti organizzativi vi ho inserito all'interno delle slide del materiale che spiegherò i comportamenti organizzativi attesi ci sono degli interessanti documenti di aran per chi non vuole seguire il corso se li può anche scaricare da soli che sono per esempio i documenti sui comportamenti organizzativi attesi dai direttori dirigenti e personale non dirigente di aran quindi di una organizzazione pubblica che servono a far vedere concretamente cosa significa comportamenti organizzativi e cosa mi aspetto nei testi situazionali come mai la è più sbagliata di la b e la c perché la rinuncia a risolvere il problema la b e la c comunque in un certo qual modo lo esasperano il problema ma la rinuncia a risolvere il problema come vedete appunto dirigenti e personale non dirigente documenti molto molto interessanti che analizzeremo completamente poi ci saranno dei documenti che non analizzerò completamente ma insomma per sommi capi ad esempio questo è un documento elaborato dalla funzione pubblica dal formes attenzione il formes è la stessa agenzia che gestisce questi concorsi per cui sono andato a cercare nei documenti ovviamente quelli che posso ritenere possano essere presi a riferimento per elaborare i quesiti quindi questo documento è condizioni affinché la valutazione del comportamento organizzativo sia strumento di sviluppo sono i lavori su cui poi brunetta nel 2009 ha elaborato la riforma sulla performance quindi documenti che sono alla base della riforma del 2009 ho preso anche dei documenti molto interessanti da questo sito di una organizzazione privata sulle dieci diciamo problematiche legate all'organizzazione e quindi vedremo anche lato impresa quali sono le problematiche legate al problem solving e l'azione orientata alla risoluzione del problem solving secondo tre dinamiche da non sottovalutare come interessante anche il tema del benessere organizzativo anche qui un documento elaborato dal dipartimento della funzione pubblica e nella epoca qui siamo addirittura nell'epoca bassanini sul tema benessere organizzativo dove già si enucleavano le soft skills ok nascono molto indietro e ormai hanno nel pubblico anche più di vent'anni una paragrafo molto rapido sulla comunicazione perché sappiamo quanto è importante comunicare e sulla comunicazione esiste una legge 150 2020 che proprio si occupa del sistema di comunicazione e dell'organigramma delle figure nate in seno all'organizzazione sulla comunicazione perché qualche domanda potrebbe riguardare anche questo tema fra l'altro c'è una direttiva ancora attuale della ministro dell'allora ministro della funzione pubblica attuale presidente del consiglio di stato franco frattini sulla su questa attuazione due parole sui codici di comportamento perché ovviamente c'è anche il tema dei comportamenti che conseguenze hanno attenzione però il comportamento che si analizza nell'analisi organizzativa non è quello giuridico non è il tema della responsabilità disciplinare ok ci interessa risolvere il problema a prescindere dalle conseguenze giuridiche però due parole di riepilogo sul codice di comportamento etici e disciplinari le farò così come le linee guida sulla performance emanate dalla funzione pubblica e sul sistema diciamo circolare di analisi della performance altro documento formez funzione pubblica la gestione della performance in ottica sistemica che è un documento che è stato elaborato proprio su questi temi ultimo paragrafo è la reingegnerizzazione dei processi un tema che andava di moda un tempo che fa parte di questa visione organizzativa quindi attenzione del modo dell'approccio con cui si affrontano i temi organizzativi della pubblica amministrazione e di cui vi parlerò nelle sue fasi essenziali ultimo documento il dizionario dei comportamenti organizzativi del comune di bologna è molto dettagliato per cui molto più dettagliato degli altri documenti ve lo mostrerò integralmente ma mi soffermerò solo su alcuni aspetti perché veramente molto molto interessante un piccolo paragrafetto finale sulla e leadership cioè sul tema organizzativo della leadership in un'ottica informatica anche questo documento della funzione pubblica e di agid ma ha collaborato anche il formez e del 2016 quindi non lontanissimo che analizza appunto la pia digitale le conoscenze digitali le soft skills in ambito digitale la leadership organizzativa vedete tutti i temi che sono rilevanti vi dicevo code 050 è il corso completo i 150 quiz è il code 783 che è compreso nel corso completo chi volesse invece esercitarsi su batterie di quiz trova il corso code 501 andiamo avanti con i test situazionali allora chi vuole esercitarsi sulla seconda parte gli otto quesiti dei test situazionali avrà due strumenti se vuole ovviamente attingere al materiale che metto io a disposizione che sono il code 511 che è la lezione già disponibile quindi questa è già visibile la potete già guardare da oggi sulla test situazionali commentati come quelli che avete visto prima quindi dove si leggono vi si dà la possibilità di rispondere poi si dice qual è quello preferibile e qual è quello meno preferibile benissimo ok oltre al code 511 è in fase di registrazione lo farò a brevissimo anche questo 3 4 giorni il code 773 che è un'altra batteria di test situazionali identica come tipologia ovviamente i test sono diversi quindi questo è alternativo al precedente quindi chi è interessato può prendere il 511 e può prendere il 773 o uno dei due diciamo comunque sono batterie omogenee che analizzano le varie tematiche proprio finalizzato ai concorsi sia in ripam che negli altri concorsi dove vengono chiesti test situazionali quindi non riguarda diciamo soltanto ripam ormai i test situazionali sono inseriti in moltissimi bandi e in moltissimi concorsi chi volesse lo dico per completezza ha la possibilità di acquisire questa lezione anche direttamente su facebook perché la lezione la registrerò il 27 di settembre alle ore 18 vedete 27 di settembre alle ore 18 in diretta per cui la lezione su facebook viene molto meno di quella poi sulla piattaforma perché la piattaforma poi consente di integrarla quindi ci saranno materiali aggiuntivi le sbobinature insomma ci c'è molto materiale in più quella di facebook è la possibilità di assistere in diretta o in differita quindi chi si iscrive la può anche vedere registrata ci sono già 13 iscritti ringrazio i partecipanti l'ho promossa stamattina quindi il 27 la avrete o su facebook o sulla piattaforma con il nome cod 773 come detto poi eventualmente c'è il corso 501 adesso andiamo a vedere se ci sono dei quesiti particolari che vengono richiesti altrimenti vi dico alcune considerazioni allora leggiamo questa parte del bando ok qualcuno ha fatto qualche domanda allora questa parte del bando dove dice i predetti quesiti attenzione i predetti quesiti ora dispiace quando in un bando che dovrebbe essere lo strumento per rendere chiare le regole del gioco si debba interpretare purtroppo non è particolarmente felice questa formulazione i predetti quesiti sono altresì volti a verificare la capacità logico deduttiva e di ragionamento critico verbale la conoscenza della lingua inglese per un livello b1 nonché la conoscenza delle tecnologie informatiche competenze digitali allora cosa si deve intendere con questa formulazione premesso che ovviamente io non vi posso dare l'interpretazione autentica di quello che girava nel cervello di chi ha scritto questo testo però io l'ho letta in questo modo non ci saranno quiz di logica né di ragionamento verbale i classici psicoattitudinali o attitudinali non ci saranno quindi non ci saranno quiz di matematica quanto fa 3 più 2 ma ci saranno quiz su diritto amministrativo diritto pubblico economia politica dove ad esempio di economia politica mi potranno fare un quiz di logica cioè di applicazione di un diciamo sillogismo aristotelico per cui se la curva dei consumi è se la curva della domanda è allora cosa ne deriva che è elementi di economia politica applicati alla capacità logico deduttiva così come al quesito qualora il presidente della repubblica dovesse sciogliere le camere cosa ne deriverebbe che non è cosa la norma prevede ma cosa secondo un ragionamento logico ne deriverebbe l'espressione limitatamente ai seguenti atti fondamentali che troviamo nel tuel che cosa significa quindi che è ragionamento critico verbale quindi io l'ho letta in questo modo quesiti che possono avere a che fare con la logica e con il ragionamento critico ma che si riferiscono alle materie d'esame con il riferimento ai predetti quesiti secondo aspetto inglese quesiti in lingua inglese sulle materie d'esame quindi potreste avere una o più quesiti con un livello di inglese abbastanza semplice un livello b1 con sempre sulle materie d'esame quindi dove le opzioni non è altro che la traduzione in inglese delle materie d'esame però qui potrebbero anche essere diciamo diversi io immagino immagino la butto lì la traduzione di una norma della costituzione insomma sono le gli articoli della costituzione si prestano bene a essere tradotti in inglese fra l'altro sul sito del senato trovate anche la versione inglese della costituzione quindi magari vi invito a ripassare la costituzione costituzione italiana ora se lo trovo in diretta ve lo segnalo costituzione italiana in lingua inglese mi sembrava di averla vista sul sito del senato forse sicuramente sul sito del presidente della repubblica no avevo indovinato eccola qua ve la metto nei link ecco magari un ripasso consigliato è questo leggetevi la costituzione in lingua inglese così ripassate contemporaneamente l'inglese e il diritto costituzionale le nuove tecnologie che cosa potrebbe essere potrebbero essere domande di informatica perché anche saper usare la posta elettronica fa parte ormai del diritto sappiamo che la legge 241 obbliga all'uso dell'informatica della telematica quindi domande diciamo di informatica pura o più probabilmente il cad il codice dell'amministrazione digitale quindi non è improbabile che possa esserci una domanda di questo genere allora mentre guardo i commenti francesco dice il giorno del mio compleanno il 27 faremo questa diretta e ti festeggeremo francesco vediamo se riesci a rispondere bene a tutte le domande aspetto da voi nei commenti sia su facebook che su youtube diciamo indicazioni altrimenti vi vado a inserire nuovamente i link per poter trovare il materiale di cui stiamo commentando o se vi vengono in mente dopo dei quesiti per poterli formulare intanto vi do qualche secondo dovuto al lag dello streaming allora vediamo vediamo un attimo intanto ringrazio i numerosi partecipanti è un concorso 170.000 iscritti quindi numeri significativi ovviamente di 170.000 100.000 si erano già iscritti l'anno scorso nel frattempo magari hanno vinto dei concorsi o non hanno voglia di partecipare o magari vanno a festeggiare il compleanno da qualche altra parte quindi può darsi che se ne presentino butto là è 120.000 ecco però 120.000 si presentano per 3.000 posti quindi la gara sarà fra questi mi raccomando io lo dico sempre nella preparazione quando ci si prepara ai concorsi conta anche il momento in cui ci si prepara allora gli ultimi giorni sono fondamentali gli ultimi giorni il nostro cervello è fatto come un computer un computer ha una memoria una memoria di hard disk che io la costruisco nel tempo voi oggi avete un hard disk pieno perché perché nel corso degli anni avete salvato i file i file che salvate vi rimangono nella memoria ma voi non ve lo ricordate che avete salvato delle foto dei documenti ma rimangono lì occupano memoria cosa serve lo studio lo studio serve per rinfrescare questa conoscenza che avete farla emergere poi abbiamo la ram la ram è la memoria rapida la memoria che c'è in questo momento e se spengo il computer finisce la ram ce la formiamo gli ultimi quattro giorni cinque giorni addirittura le ultime ore io consiglio sempre quando andate ai concorsi portatevi dietro il materiale o sul cellulare sentite qualche mia lezione perché perché le nozioni che apprendete lì sono istantanee ve le ricordate un secondo dopo la lettura della 241 un secondo prima di entrare all'esame voi ricordate a memoria tutti gli articoli che poi dopo qualche ora dimenticate perché quella è la memoria fresca quindi portarsi le leggi il manuale con le norme e leggerlo il giorno primo al giorno della dell'esame mentre siete in fila ad aspettare è fondamentale fondamentale perché vi dà quelle nozioni che magari avete fortuna ed esce proprio la domanda su quel tema ricordatevi che con ogni probabilità si è dentro o si è fuori per una barra due risposte non di più l'abbiamo già visto nelle prese elettive con su adm sicuramente sarà su questo si è dentro o si è fuori al massimo per una due risposte quindi anche aver fatto l'ultimo sforzo per riuscire a rispondere bene per esempio non sottovalutate gli attitudinali perché perché danno otto risposte quindi danno una buona fetta di punteggio quindi far bene uno o due di quelli è come far bene uno o due domande sulla sulla parte sulla parte giuridica non solo vi dico di più mentre sulla parte giuridica se sbaglio ho un punteggio negativo se non rispondo ho zero punti negli otto quesiti situazionali io ho sempre un punteggio al limite neutro ma potenzialmente positivo quindi diciamo che mi danno una buona chance di successo se entro nella logica che non è una logica giuridica che è una logica di diverso di diverso genere bene io vedo che non ci sono interventi quindi o è tutto chiaro o siete in angoscia in ogni caso io vi saluto e ci vediamo alle prossime occasioni di formazione grazie arrivederci a tutti grazie a tutti